Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Tragico lutto in Rai, la triste notizia è arrivata pochi minuti fa, lasciando tutti senza parole. Un paio di anni fa, sulla rete Rai uno dei programmi di maggior spicco era sicuramente Miss Italia, nel concorso di bellezza sono passate tantissime ragazze. Nelle ultime ore è arrivata una bruttissima notizia in redazione. Una delle finaliste degli scorsi anni è morta, colpita da un grave male, era giovanissima. Si è spenta giovanissima, a soli 37 anni la modella Antonella Fragello. Finalista di Miss Italia 2014, è deceduta a causa di un brutto male. Era sposata e il marito, Carlo, le è stato accanto fino alla fine. Lascia un vuoto incolmabile in tutti Antonella, conosciuta per la sua bellezza, ma anche per la sua professionalità. Modella e protagonista di campagne pubblicitarie, era stata anche e organizzatrice del concorso Miss Italian del 2014 a Napoli, sul lungomare. Grazie. Grazie.